Lo telegramma oggi vado stamattina me l'ha scritta mamma mia e diceva vieni subito da casa circa per me il suo capitano che papà tu non sta buono abbracci e baci mamma era tua e invece e invece papà mi era morto già in due treni nel giornale nella ritta la verità sotto i ponti nell'autostrada hanno giocchia da benzina hanno fatto una rapina fatto i ponti con una mille e tre hanno acceso il benzinaio e che non l'hanno bene fatto non mi li ho nato trovato l'incazza da juretma dasteva ma ha già fatto sempre c'entra capistola ti rasseglie che appona mi denuncia ti rasseglie ti rasseglie ti rasseglie e le mie Sottabita mi ridare, ha ci vattuto sempre scende, che ha visto l'attirazione, e ancora non ci ha vanno scurita. Sottabita mi ridare, ha visto l'attirazione, e ancora non ci ha vanno scurita. Sottabita mi ridare, ha visto l'attirazione, e ancora non ci ha vanno scurita. Sottabita. Sottabita.